Musica Consiglio tieni premuto per un attacco scaglia in aria ok Ma io vorrei andare un attimo nel negozio Luogo molto molto lontano Scusa un attimo A sto punto tanto vale no? Che tra l'altro non ho capito se quelle 2000 monete sono in totale o sono quelle che abbiamo preso extra per questo livello Ma credo extra per questo livello Andiamo nel negozio E invece no mi sa che era il totale abbiamo 3050 monete ok Ma chi li ha assunti questi? Voglio il costume da cavaliere malvagio per il gatto non me ne frega nient'altro Tieni Sovrascrive questo file? Certo Che tra l'altro mi sa che non l'ho comprato ho solo salvato per sbaglio aspetta Ecco infatti per comprare era quadrato Bello dai guarda che figo è il gatto cavaliere nero E rieccoci qua Con le prossime monete magari compriamo un costume a Shrek Anche perché in realtà Non è che c'è molto altro da comprare Anzi no in realtà c'erano i danni Fermi tutti A Shrek non può fare il doppio salto Giustamente Però il gatto si perché è un micio Ma Scusami eh Vabbè ce l'ho fatta Non so se fosse contato che io dovessi fare ciò ma va bene È stato divertente Non so se il gioco contasse che io usassi quella palla per salire Ma mi sa di sì Ora va meglio Allora aspetta un attimo perché a questo punto Uh un uncino dorato Hai capito uncino Scusami eh perché a questo punto Mi chiedo se c'era qualcosa di sotto Allora c'è un forziere e c'era una gabbia che posso spostare Per salire sopra Ok In pratica non dove usare il mappamondo Ma poi questa non è la nostra nave Perché i pirati sono saliti senza controllo Dove erano le guardie Che stavano facendo Vabbè in teoria avevamo due prigionieri dentro Nel livello prima Magari erano le guardie Ma a me non mi sembra proprio Qua c'è un bicchiere Oh calmi tutti aspetta Via liberi e selvaggi Verso le distese dell'antartine Eh beh certo come no Scusami eh Trova i clande Ah ma era un pinguì È un pinguino di Matadascar È un pinguino di Matadascar Questo gioco mi ha appena risalito di tutto Trova i uncini Frigge cinque colpi di grazia Trova tutte le tazze regalo Ok Questo gioco è appena risalito Del tutto Ah beh grazie che rimanete fermi Eh aspettate che vi rapino Allora calmi tutti Allora uccidiamo questo Uccidiamo anche lui Così ho fatto anche i colpi di grazia Vediamo subito C'era qualcos'altro Qui no posso scendere Allora sì posso scendere Ma c'era una leva Quindi Sia mai Ah guarda c'era Anche della roba qua sopra Scusa posso spostarla Questa cassa Ok Non posso spostare le casse Che si rompono ma No No quadrato Posso probabilmente Tirare giù qualcosa Adesso per salire Uomini Alle scialuppe Preparatevi alla fuga Preparatevi a scappare Ma è una crocchetta Ma la spada è arrugginita Allora dammi un attimo Fermi tutti Allora col gatto posso fare Il doppio salto Ecco fatto Eh già Scusami eh Vieni qua Shrek tu combatti In questa parte Perché il gatto Prima combatteva eh Dai Eh che palle Ecco fatto No allora Il gatto non ha il tempo Di arrivare sotto Per prendere Giustamente Non ce l'avrebbe neanche fatta Però non è neanche Proprio il tempo Shrek si Perché probabilmente Li lancia molto più in alto C'è qualche oggetto Qui da queste parti No Non c'è neanche una tazza Vorrei provare L'attacco L1 Del gatto Tra l'altro si vede L'ombra di Shrek Qua vabbè Ah beh pensavo che il gatto Avrebbe detto No non posso entrare qui C'è l'acqua Quei bili pirati Hanno rubato la nostra nave Beh no Beh no in realtà In realtà ancora no Aspetta Ecco qua Prendiamo Soldi extra Più che possiamo Calmi tutti Ecco fatto Come si fa Ehi dai E basta un po' Ecco fatto Prendiamo tutti i soldi Per quanto in realtà Una moneta Non faccia il grande cambiamento Su una scala di Tutto quanto In ogni caso Prenderle Di sicuro schifo Non ci fa no Ecco fatto E' molto scattoso Su quello però Devo dirlo Cioè nel senso Ci sono stati giochi Molto Più vecchi Che erano molto Meno scattosi Che abbiamo giocato Eccolo qua Un altro bicchierozzo Ecco qua Un altro uncino Dai siamo A un buon punto Con entrambe le cose Ah Ti sarebbe piaciuto Vero Allora dammi un secondo Che Aia Aè che è sta roba I fratelli circensi Eh Beccati questo Stronzo Eh Angard Ti stavano per fottere Tre in uno qua Angard Aspetta che prendo Le monete Grazie Ecco qua Gatto nella stiva Eh gatto nella stiva Giustamente Qua non c'è nulla Che posso rompere Qua Chi c'è Shrek Ah ma c'è C'è anche lo zoom Ma perché posso Zoomare In avanti Che cosa mi serve Zoomarmi in avanti Già mi vedo Cambio di personaggio Un pesce eccellente Sono in paradiso Beh Va bene È un pesce eccellente Il commento migliore Della giornata Un pesce eccellente Ed ecco qua Tutte le tazze Ci manca solo Due uncini Aia Ah pensavo di colpire Anche quello dietro Sincero Pensavo di colpirne Due in uno Vieni qua Ah gli da una spallata Non una testata Ok Effettivamente dare una testata Nel culo sarebbe Stato abbastanza strano Chi ha avuto La brillante idea Di nascondersi qui Non lo so Ma siete stati Abbastanza dei fessi Fatevelo dire Ah erano pirati Io intendevo In tutta la nave Non nascondersi lì Nella scatola Vieni qua Vieni qua Ah giusto Effettivamente dovrei provare L'attacco finale Del gatto Ancora non Non l'ho fatto Però vabbè Aspetto magari Il capitano della nave Il grande capo Con lo spiedino E il E il vassoio D'argento Ecco qua Anche in dragon quest Tra l'altro c'è Come equipaggiamento Un Come scudo Un piatto Di bronzo Argento E dorato Bronzo forse in realtà No però Forse mi sto confondendo Devo andare di qua Sì ma prima Devo salire Allora aspetta Aspetta Calmi tutti Mi serve qualcosa Salire qui No ma era pieno di soldi Quindi Ecco fatto Grazie Un passaggio segreto E' capito E' capito E la porta Si aprì Non è vero Ma io pensavo Di dover salire Beh forse salgo Da questa parte Eh ma va Dopo tipo Mezz'ora di gioco Mi spieghi Che posso fare Il doppio salto Grazie Ma Sherek in tutta Sta storia Dov'è? Il gioco Non si chiama Il gatto Con gli stivali Il gioco Si chiama Sherek Terzo Allora Calmi tutti C'è Qualcosa che posso Prendere qui No Quindi gatto Premi la leva Ah ok Va bene Non mi sorprendo Neanche più di tanto Ormai Beh non è che Le abbia prese Proprio tutte Ma va bene Ecco fatto Scusami A che distanza Dovrei stare Per riuscire A prenderle tutte Io Va bene Non è importante Questo Oh calmo Stavo andando Troppo veloce Ok Siamo arrivati Ci manca solo Un uncino Dove potrebbe Essere nascosto Forse qua Come siamo messi Fare solo il livello Senza morire È un pesce Eccellente Combatti da uomo Potrei dire Di aver perso Contro il miglior O da quello Che vuoi Giustamente È un guard Colpisci E uccidi Gatto Ecco fatto E ora Possiamo attivare La leva Col Combatti da uomo O da quello Che vuoi Ma è una musica Molto pirati Dei caraibi Questa Adesso possiamo Prendere il largo Scordatevelo Non avrete mai La mia nave Ma di cosa sta parlando Non ne ho idea Ci pensi tu O ci penso io Posso scegliere Ti hai premuto Per rompere lo scudo Dei pirati Ma io volevo provare L'attacco incredibile Del gatto Sconvolgente Sconvolgente Eh va bene Va bene Mi arrendo Bravo giovanotto Bravo giovanotto Di pure il largo orco Ma che tu sia maledetto Eh Possa un vento maligno Gonfiare le tue vele Per me va bene Abbiamo del lavoro Da sbrigare Gatto Andiamo A me va bene Va bene Guarda Non ho più nulla Da dire ormai Non mi sorprendo Neanche troppo Di sti giochi Tutti quanti Gli obiettivi 2100 monete Ok Titolo molto regale